Ti auguro proprio una santa giornata, che questa festa o meglio solennità dell'assunzione della Madonna in cielo in anime e corpo possa diventare per te una grande esperienza della presenza di Maria nella tua vita e soprattutto della nascita del desiderio del Paradiso, perché in questa giornata la Chiesa Cattolica rivive su tutta la terra, nella fede in modo misterioso ma vero, rivive quel momento in cui Maria lasciò la vita terrene ed entrò nella vita detta celeste, che è la vita eterna, la vita di Dio, la vita definitiva, la vita di Gesù risorto. E questo dogma, cioè questa verità solenne proclamata, diciamo, nella Chiesa dal Papa Pio XII, il primo novembre 1950, non indica solo che Maria entra in Paradiso in anima e corpo, a differenza di noi in pratica, che all'inizio entreremo alla presenza di Dio solo con lo spirito, con l'anima, perché il corpo si distruggerà per un certo periodo. Ma questa festa, questa verità, implica anche una parte di cui di solito non si parla, ma è molto importante per noi, cioè che Maria è proclamata, esaltata, da Dio come regina nell'universo. Ecco, questa è un'immagine per noi figli delle democrazie moderne, un po', diciamo, non tanto facile da capire, ma nel senso spirituale significa che Maria, entrando in Paradiso, è associata alla Signoria spirituale di Gesù. Mentre, finché era sulla Terra, come te, come me, viveva, si pensa a Gerusalemme, alcuni dicono a Efazio negli ultimi anni, ed era solo lì, pressoché sconosciuta dal mondo, dopo che entra nella vita futura di Dio, è spiritualmente presente in ogni luogo, in ogni tempo, come Gesù, come Gesù risorto a una Signoria per parlare con amore, con profondità al tuo cuore, anche questa mattina, dovunque tu ti trovi, non solo fisicamente, logisticamente, ma dovunque tu ti trovi spiritualmente, cioè nella condizione della tua anima, della tua vita, in questo momento. Ecco, questa quindi è una festa bellissima, ci ricorda e ci aiuta anche a credere, a sapere che noi siamo fatti per il Paradiso, cioè per una vita eterna, piena, veramente felice con Dio, e che questa vita futura è condizionata, e preparata nel bene e nel male, dalla vita presente, dalla vita presente. La vita presente è importantissima per noi credenti, perché non solo è la vita che noi viviamo adesso, che sentiamo, che vediamo, per cui lottiamo, ma è una vita che influisce sulla vita definitiva, e quindi non solo questa grande speranza del Paradiso, dicevo, ma anche un'occasione per sperimentare di più la presenza spirituale di Maria, la sua, si dice, regalità, con un'immagine simbolica un po' del passato, e cioè che lei può veramente rendersi presente nella tua vita, anche in modo che tu te ne possa accorgere in qualche modo. Quindi ti invito ad aprire gli occhi del cuore, a invocare la Madonna, e anche se ti è possibile, a riconoscere i segni della sua presenza. Lei ti porterà, non solo ti parlerà, ti porterà questa pace, questa gioia, che è proprio, diciamo noi, del cielo, cioè della vita eterna, definitiva, e ti aiuterà, ti aiuterà, ti aiuterà, nelle difficoltà presenti, soprattutto nelle difficoltà morali, dove devi scegliere tra il bene e il male, dove magari sei appesantito, appesantito dal ricordo di scelte non buone. E non aver paura, lotta con la forza che lei ti dà, rialzati e impara ad alzare lo sguardo verso il tuo futuro, non essere incosciente, come tanti oggi nel mondo, che vivono senza pensiero del futuro. Questa è una mancanza, è un'ignoranza, è una stoltezza, ed è una mancanza di amore verso se stessi. Noi abbiamo responsabilità sulla nostra vita presente, non solo davanti alla legge, davanti agli altri, ma davanti a Dio, al nostro futuro ultimo. Quindi dobbiamo pensarci, chiedere al Signore di avere un futuro felice, dove possiamo godere dell'amore infinito di Dio e anche della comunione con tutti quelli che hanno accettato il suo amore nella vita, soprattutto nell'ultima ora. Ti raccomando anche di dire spesso il rosario, o perlomeno l'Ave Maria, con questa intenzione, dove la Chiesa ci fa dire prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, soprattutto nell'ora della morte. Adesso sicuramente, perché è l'ora della responsabilità, ma soprattutto nell'ora della nostra morte, dove decideremo come sarà la nostra eternità, se con Dio o senza di Lui. Ti benedico tanto, vorrei che ti svegliassi un poco, rendendoti conto della grazia che passa oggi. Passa oggi e non tornerà, anche vicino a te, con questa festa della Madonna. Quindi oggi è ferragosto, ci sono tante iniziative nel mondo che possono essere a volte anche di aiuto. Se è uno svago sereno, ieri ho visto una bellissima famiglia tutti insieme, la Messa mi ha fatto tanto piacere, sì, un po' di svago ci vuole, perché a volte siamo un po' troppo oppressi. Però dobbiamo ricordarci che la ricreazione più profonda è quella in cui Dio ristora i nostri cuori, è quella in cui la pace di Dio aumenta. perché se noi corriamo da una parte all'altra, poi non ci accorgiamo che aumenta l'inquietudine, il nervosismo, il senso di solitudine, non è un bel ferragosto. Ti benedico tanto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.